Estate a Matera? Nessun problema, grazie ad Aquaworld. L'innovativo Blue Wellness Family Club, infatti, ha aperto un confortevole terrazzo solarium sulla propria sede di Via delle Comunicazioni, nella zona Pipe 2, il luogo ideale per sentirsi in vacanza, pur restando in città. Era l'ultimo anello mancante di questa struttura, appunto questo terrazzo, circa 750 metri, suddiviso in tre aree, dove siamo adesso in questo momento, l'area lunch bar, mentre all'altra parte c'è l'area, diciamo, ristoro, e poi c'è un ampio solarium con piscine di acqua salata. La terrazza di Aquaworld è un posto accogliente in cui trascorrere anche una serata diversa. È per questo che il mese di agosto presenta una programmazione ampia e variegata, davvero adatta a tutti. Una struttura completa, di giorno si può vivere, come vedete in questo momento siamo qua, alle mie spalle c'è un bar dove è aperto dalla mattina alle 9 fino a luna di notte, quindi un posto dove appunto si può vivere di giorno. E poi di sera invece, dalle 21 in poi, la struttura cambia faccia. Infatti abbiamo sistemato una serie di effetti luci molto scenografiche, quindi tanto è vero che a partire da subito, dal primo di agosto, sono partite le serate, abbiamo circa 12 serate, sono tutte serate a tema, dalla serata Beduina, la serata Messicana, il prossimo martedì ci sarà la serata Sommelier, ci sarà poi giovedì prossimo 9 Massimo Borgata, un comico napoletano, insomma ce n'è per tutti i gusti. Non ne parliamo la settimana invece di Ferragosto, tutta la settimana faremo dalla mattina alla sera divertentismo, faremo in modo praticamente che chi rimane in città veramente non possa sentire la mancanza del mare. Insomma, Aquaworld è benessere a 360 gradi, partendo dal corpo si arriva allo spirito, passando per la mente. Il nostro payoff appunto che è Blue Wellness, il wellness Blue, cioè il benessere appunto non solo quello che è il fisico, ma anche la mente, anche la mente ha bisogno di rilassarsi dopo un anno di lavoro, per chi proprio come quest'anno, anno di grandi crisi, non può permettersi le ferie, un benessere a casa senza dover fare le code disastrose dei nostri mari, e non solo le ricode, ma anche i costi del cargurante, può rimanere in città e Aquaworld può offrire questa possibilità. Il personale di Aquaworld è lieto di ospitarvi sul proprio terrazzo per trascorrere al meglio la vostra estate, nella quiete del Pipe 2 in via delle comunicazioni. C'è un sito internet www.aquaworld.it per chi volesse sapere tutto immediatamente, oppure può chiamare al numero telefonico e chiedere informazioni. Per quanto riguarda il solarium, vale sempre la pena, diciamo, prenotare, perché in certi momenti riusciamo anche a dire di no, perché quando abbiamo un riempimento molto elevato non ci va di creare l'effetto metaponto, giusto per capirci. Mentre invece di sera, dopo le 21, si può venire al lunch bar tranquillamente, senza prenotare, siamo aperti fino all'ora di notte. Mentre per quanto riguarda l'area food, facciamo solo prenotazioni. Logicamente la struttura, già tutto l'inverno, ha fatto una serie di eventi, compleanni, feste di lauree, trick e track, ce n'è per tutti.